La spazio poetica, ovvero gli MM40, la situazione di Miguel, vi leggeranno uno o più poesie tratti dal loro repertorio, un numero da 1,40 per sentire un declamato, 69 uguale 40 più 29 credevi di fregare, la 29 situazione, rovescio, silenzio nell'auditorio, ho detto silenzio, proprio non mi fanno esistire, rovescio, applaudite, applaudite, fate, e poi boccate i urlo, rovescio, non so perché tutto vada a rovescio, ma è meglio che lo abbiate capito Oh, je, tu, ti, te, se, mi, caso!